Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Paola Perego in occasione delle nozze della figlia Giulia ha scelto un abito di gran classe. Scopriamo come sia vestita per il giorno delle nozze.La conduttrice ha indossato un vestito semplice che le stava davvero benissimo. Il look semplice, sobrio ma super femminile l'ha resa la regina della festa, subito dopo la sposa, chiaramente. Scopriamo che cosa ha scelto di indossare la conduttrice Paola Perego nel giorno del fatidico sì di sua figlia Giulia. Paola Perego, il bellissimo abito per il matrimonio.Paola Perego è uno dei volti del piccolo stermo italiano più amati. La conduttrice a partire dagli anni 90 è diventata uno dei personaggi femminili più gettonati e molti autori hanno le hanno chiesto di condurre alcuni dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset. Successivamente, intorno al 2010 Paola ha deciso di concludere il suo percorso nelle emittenti con le quali ha debuttato in TV e di passare in Rai. Oltre ad essere una conduttrice di successo Paola è anche mamma, di Giulia e di Andrea, i due figli nata dalla sua storia d'amore con il calciatore e Andrea Carnevale, negli anni 90. Oltre ad essere una madre amorevole, la Perego è anche una dolcissima nonna. Giulia infatti è già mamma di Pietro e di Alice. Adesso, dopo tanti anni assieme, Giulia e il padre dei suoi due bambini hanno deciso di diventare marito e moglie. Alla cerimonia la mamma della sposa si è presentata con un Luca che ha attirato su di sé gli sguardi di tutti gli ospiti presenti e che ha confermato la sua autentica bellezza senza tempo. Scopriamo come era vestita Paola Perego al matrimonio di sua figlia Giulia Carnevale. L'incredibile eleganza della conduttrice alle nozze di Giulia Per il giorno tanto atteso da sua figlia Giulia Carnevale e dal suo fidanzato Filippo Giovannelli, Paola Perego non poteva che scegliere con cura l'abito da indossare, data l'occasione speciale ed irripetibile. Così la conduttrice non si è lasciata scappare l'occasione di sfoggiare un vestito elegante e ricercato. Quello che però ha fatto davvero la differenza agli occhi di tutti gli invitati al matrimonio è stato il suo stile semplice e al tempo stesso ricercato. Paola ha indossato un vestito di colore bianco a sottoveste, valorizzato da una lunga collana dorata. Per l'airstealing ha voluto dei capelli raccolti. Il risultato finale è stato d'effetto e raffinato, bello, d'impatto e senza fronzoli. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!